Sopra tutti oggi vedremo come aggiornare il nostro Mac Mini AOS Hide CR se non dovesse funzionare il metodo tradizionale quello di andare su Apple Mac Store e cercare un nuovo aggiornamento facciamo questo metodo alternativo quindi andiamo direttamente sulla pagina di Mac OS CR poi scendiamo giù fino a dove c'è scritto via Mac App Store una volta cliccato su App Mac Store si aprirà la pagina di Mac OS CR e facciamo ottieni qua ci verrà richiesto il nostro ID Apple e la password la inseriamo così lui effettuerà il download una volta inserita la password lui scaricherà il nuovo aggiornamento attendiamo un attimo che sta per terminare dopo di che andiamo su continua poi accettiamo le condizioni di contratto accetto selezioniamo il disco di destinazione facciamo install mettiamo la password mettiamo la password quella dell'account di quando abbiamo creato il nostro Mac non quella di Apple dell'account Apple lui vediamo che sta facendo il download dell'installazione del nuovo OS in questo caso IDCR nel nostro Mac Mini tra poco terminerà chiudiamo le altre applicazioni chiudiamo le altre applicazioni e lui si riavvia riavvierà il sistema noi qui abbiamo portato la pagina avanti per velocizzare un po' il tutto ci impiegherà quasi 18 minuti dopo di che immettiamo la password dell'account del nostro Mac e entriamo nel nuovo aggiornamento IDCR se andiamo sulla mail e facciamo informazione vediamo appunto la nuova versione Mac Sierra versione 10.3 10.3 spero di essere stato utile per oggi è tutto grazie alla prossima